Ciao a tutti, gradito ritorno in Top 10 per il Subutio Club Terni 2014 del circuito internazionale Waspa perché è rientrato nella Top 10 del ranking Waspa, che è un ranking amatoriale di Subutio a livello internazionale per cui è riuscito dopo alcuni mesi a rientrare in questa prestigiosa posizione che dà molta soddisfazione al Subutio Club Terni 2014 questo ci fa capire che il livello del Subutio a Terni è molto molto elevato e soprattutto lo è grazie ai suoi esponenti principali che sono i fratelli Perotti, soprattutto Marco e Simone e non solo ovviamente sono molto forti tutti gli appartenenti, tutti i membri di questo club perché sono riusciti a raggiungere una prestigiosa Top 10 nel circuito internazionale Waspa per il mese di dicembre 2022, per cui staremo a vedere in che posizione saranno nella classifica del 2023 di gennaio perché questa classifica è una classifica che va a livello mensile in cui si sta a fare in cui si sta a vedere 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 in cui si sta a